Il Carnevale Alcamese 2023, qui sul palco allestito in Piazza Ciullo, i Calandra e Calandra pronti ad esibirsi. Allora, questa sera suonerete un vostro repertorio? Sì, diciamo, ci atterremo alle canzoni del Carnevale, tutti gli inni che abbiamo scritto per i carri, più l'inno del Carnevale Alcamese. Un'esperata che prevede anche DJ, vocalist e comunque grande divertimento dopo anni piuttosto difficili, no? Diciamo che finalmente ci voleva quest'area di festa e ad Alcamo comunque deve continuare la tradizione del Carnevale e deve sempre migliorare. Per cui quest'anno diciamo che è un'anteprima per il prossimo anno e noi siamo ben felici e contenti di essere sul palco a rappresentare quello che è il Carnevale con le nostre musiche e con quello a proseguire dai DJ. Un buon divertimento a tutti veramente di cuore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.